Adesso La Che ti sei Cino Buonasera a tutti Ma che mi va a scatti Sul sito Moss Ma taci Con simulazione militare E non solo Sia su Arma 3 E su Reforger Anche di compagnia Siamo anche compagnia Facciamo lo psicologo Facciamo lo psicologo Siamo anche compagnia Le persone sole Chi è che ha chiesto Lo psicologo E flinchiamo Flinchiamo e pushiamo Così a random A random Aspetta Ma si Abbiamo Tor che ha preso La La 40 60 Ti Che da bo Tor è già montata È la tua coscienza Che ti parla Puoi mettere bassa voce Oh Cristo Madonna Tor è già montata La 40 60 Così va bene Mi sa che non gli funziona La 40 60 Perché non parla Tutta bianca La barra Così Ab tutto Trazare Anche era buon Buongiorno Noi quando l'abbiamo Giogata La 30 60 Eh quel prezzo Lì Però Non so Fica ancora 8 giga Mi sta un po' Su marrone Ma lì ha preso La 40 60 Ti No 40 60 Però visto che c'è C'è anche Elias La 40 60 Ti Da 16 giga A poco di più 500 E qualcosa Quella la prendiamo all'anno Eh Anzi Scusa 40 60 Ti Però Ha 2 ventole Non ha 3 492 Eh ma quella 8 giga Io voglio quella 16 adesso Mi sta stretti 8 giga Io voglio più giga Voglio un sacco di giga Fatti cazzo tu Voglio un sacco di giga Voglio un sacco di giga Eh dopo Dopo si Però vabbè Ti arriva giovedì Vabbè E niente Ma adesso vedo Perché se c'è un mio amico Lui non c'ha la TI Ma lui aveva la 40 90 Magari adesso Viva Questa fine Questa fine Ci abbiamo noi Una bomba Sì sì No Devo dire che funziona Molto molto bene Non vedo L'esigenza di cambiare la testa No per quello Per ora Neanch'io Per l'amore di Dio Però Comunque l'ho fermo Dato che ormai hanno annunciato la serie 5 E la 4 Ma io Mi abbiamo preso insieme 30 60 TI Eh io la 30 60 da 12 Vuoi chi Eh noi avevamo ancora da 8 mi pare Ma dicono che è meglio quella TI da 8 Eh perché TI Credo Guardi è una cagata E' dedicata più al gaming Invece quelle altre più da grafica Però Va bene lo stesso Non è che adesso Comunque sia ottimo L'unica roba sulle forcher E' La prima messa Dove è già una 70 Al tempo Tu hai le due reclute Che io faccio il corso di sera Eh Ah dammi Eh stanno lì Vieni 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 Ho visto Stavo dicendo Ornett Buonasera Buonasera Tu hai Ma è due facili Sto dislesso E' bassissimo Panto Mi chiamerai Orker E Street Hai esperienza Di spari Codiani Guida E allora hai già trovato Chi fa guidare i mezzi Sì Volo 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 Stryker 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 Oggi ti accoppi Con altro Cucco Tutto che ha spiegato Easy Sì Siamo qua Sono qui Così a posto di parlare di donne Che si è allergico Parlare di Due lo scout Quindi faccio la Non dire così Che siamo indiretta Dopo ti Ti insulto E Ornett fa compagnia al dottore Al dottore Che bravo Ti fai copertura È un bel dottore Allora Easy 1 Stryker 2 3 Thor 4 Sam 5 Hornet 6 Elias 7 Pantera E non me So dimenticato Nessuno Vai Ragazzi La radio Blocco 2 Blocco 2 Canale 8 10 10 Dai andiamo all'infrotto Un momento Ragazzi Ci fai Do sta? Eh guardate il mare Ok DL davanti Scalto Il trituramento Questo mare Oh 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 Ok dove è? Oro 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 Ecco c'è Devo risolvere qualche problema Con Carlito E al su TS Inizia pure te la missione Ok dobbiamo terminare Nella isola quella a nord Rispetto alla nostra posizione Dobbiamo terminare i tre I tre obj che sono ancora ostili E quindi magari vi fate infiltrare prima Al FD la poca La poca E poi fate Orpin Infine vi fate l'altro Ah ma uno è stato appena Sistemato Ah Orpin e dall'altra parte Eh sì Andrà nemico Andrà A piedi Per riscaldarvi Per riscaldarvi un po' Fatevi la poca Ok quindi il full depot E poi andate su Orpin Ok Ok Nel frattempo io poi arrivo Va bene Sì Parcos Eh Ti serve un pilota Momentaneo Ah fermo un tipo sì 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 Eh momentaneo Se vi infiltrare ragazzi Eh sì sì Momentaneo mi ci metto Ok Parcos Dimmi Sì sì Oh Oh a presto non penso che possiamo iniziare a far razzonato a vedere la nostra cosa signori buonasera a tutti quanti benvenuti a questo lunedì prima misa della settimana come sapete continuiamo la campagna di liberazione della dell'isola piccola dalla dell'occupazione della legione ldo nelle missioni scorse sono state liberati diverso e obj tra cui la militari depo remont e il la fob la vostra missione odierna come detto e salire verso nord con l'intento di liberare le cittadine di orpin e poi successivamente liberare la storage lauca sito proprio all'estremo nord dell'isola minore ci sono domande rimarchi dall'ultima missione domande no abbiamo un ordine diretto di cominciare la pochettino ricevuto dal fuori del posto appena potete organizzate il vostro il plotone con l'equipaggiamento sistemate l'ultimo materiale che resta da sistemare e potete dirigervi dall'altra parte del porto agli elicotteri per il posto di l'infiltrazione check squadre check check zona 9 check buonasera ora ricevo entrambi ehm sementatore check dalla 2 allora easy 1 2 striker 3 torcione 4 4 4 4 4 4 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 9 10 si si portate dimmi se l'ambulizione dopo che ti ho messo va bene non me la ricordavo più allora aspetta facciamo così ma io ho capo l'Alan giù va bene così vedo che ci sia spazio probabilmente si 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 infatti mi ricordo si carica grande si che so va bene vediamo un aereo caldo almeno ilias da Pantera ok cominciamo a muovere le piazzole allora signori andiamo alle piazzole e qua dico una cosa buonasera Carlito ma le piazzole credo che siano dall'altra parte ha detto all'altra parte del porto le piazzole sono 3-4-0 3-4-0 appunto 3-4-0 abbiamo con noi quattro colpi di stile eh mannaggia avanti Pante dove sei? ma lo sai che abbiamo 1-1 di Napoli centro con noi altro che napoletano come te ah di dove sei? questo è in periferia è sempre solo sempre di tutto eh è una flegria ti ecco a destra signori noi eh ti ecco a destra signori noi eh ti ecco a destra aaaaah ah e allora non ci vedete un attimo io salto Luce veate, salite. Stareca non l'ho sentito, si è impostata la radio. 5-8. Hornet Rodellina, sali dietro. Dock, mi ricevi? Hornet, mi ricevi? Spero che siamo 2-tap. Spero che siamo 2-tap. Hornet, si ricevi? Hornet, sali le conti vocali. Ma anche Stryker non l'ho sentito in radio, si è chiamato. Stryker, Hornet, mi sentite? 0-2, mi confermate che siamo tutti su? Confermo, tutti up. Hornet, se mi senti, riguardati la radio, la 3-4-tap. 1-2, 6-1 si vende per decollo verso Lenin, se posso. Ok, ricevuto. E fai il check. Canale 8, blocco 2. Blocco 2, canale 8. Sì, si, Hornet, provo un po'. Ok, io ho sentito. Non so se voi sentite a me però. Io ti sento, Stryker. Con voce normale, sì. A voce sì, ma per radio no. 2-3. A me 10 ha sentito il radio. Check. Ti sento a voce, non per radio. Chi ha fatto il check? Check. Si prova? No. Control Windows Radio. A, 2. Allora, canale 8. Sì. A, 8. Poi devi aprire la radio. E ci sono. Blocco 2. La rotellina che vedi in mezzo alla radio. Eh, allora, boh. Buono, è forse chiaro. Non è che schiacci... No, non è che c'è la 152 o l'altro DOS. No, no, no. Per puntare... Control Windows Radio 343. Allora, la campagna... Eh, nella regione, eh, della Iulacchia, c'è stato un colpo di Stato. Eh, il potere, diciamo, del governo regolare è stato, eh, eliminato. Il potere è andata, eh, l'LTO, che è una forza militare, paramilitare ostile, eh, della, della regione. E il nostro compito primario è quello, ovviamente, di liberare la regione, tutta la regione dagli ostibili. Eh, sappiamo che l'LDO sta sviluppando un progetto, eh, per la creazione di un'arma atomica. Grazie a alcuni scienziati stranieri, eh, a supporto, hanno rianimato questo altro progetto, per la creazione di un'arma atomica. E sul territorio della regione ci sono diversi agenti della CIA impegnati a raccogliere informazioni, eh, di questo progetto. Perché, eh, potrebbero darci comunicazioni, indicazioni precise durante la nostra missione. Oggi, come avete sentito, eh, procederemo a liberare definitivamente, eh, l'isola minore, andandolo, eh, partendo dalla, la Pocca, per poi spostarci a Orkin e a Fasiti. Quindi, libereremo definitivamente, l'isola minore. Luce verde. Puoi, dalla posizione. Luce verde. Andare. Via, via, via. Andiamo. Uno out. Lato nord. Ok, l'avanti di base, di alto. Se è indietro alla base, è già liberata, eh. Ok, ricevuto, per 0, 4, 0. Vai, luce verde, per ieri. Ricevuto. Cornet, li ho sentito perfettamente. Io mi sono appoggiato al muro ovest. Siamo alla baracca di Febbra. Ok, signori, il movimento sarà ad ovest, indicativamente messo su mappa. Per cui obiettivo abbiamo la Pocca. Quindi, arriviamo a quota 19, da lì probabilmente faremo un movimento, sempre in copertura delle quote, per avvicinarci il più possibile. E poi, libereremo e bonificheremo la Pocca. Apri, apri la 2, chiudi la 9. Easy, premonoia. Sirezione, 2, 6, 0, 2, 6, 8, 2, 7, 0. 2, sì, più o meno, 2, 6, 5, comunque va a sovest. La rotta blu, ricevuto. Yes. Movimento interrogativo. Non credo ancora. Non ho sentito il luce verde. Ti hai sentito il luce verde, no? Sto venendo dietro. Se provo a fare un altro check, toghi, eh. Vai. Sì, sì, ti sento. No, io non ho sentito. Porta e chiaro. Sì? Possibile. Mi sentito la voce. Tu mi senti? Io ti sento. Signori, tutte le squadre sono pronte. 0, 2, luce verde. Luce verde, Easy. 0, 2, movimento. Uno muove. Due, non vi sento il radio? Come no? No. Aspetta. Dai. Allora, 2, 10. Eh, sì. 9, movimento. Check, dalla 2. Ok, ora posto 0, 2. Ok, 0, 2, movimento. Ci ricevi? Dai, ci ricevi? Sì, ti ricevo. Continuo movimento in direzione 260. Vai, vai. Avvicinamento in corsetto. L'elicottero, spero sia il nostro prima via. Corsetta leggera, cambia. Vede doppio Charlie. Ho avuto doppio Charlie. Aspetta che rimetto l'audio, sennò sento un cazzo di chi si arriva addosso. Allarghiamo un pochetto, ragazzi. I pari a destra e i dispari a sinistra. I libelli come i lias in mezzo. Quelli brutti dietro? Quello brutto c'era il parterra dietro, non ti preoccupa. Largatevi di più. Non per entrare nel settore nemico, credo. Tieni i giocchi aperti. Stavano indietro la collina? Sì, è giunto al rendezvous. Sì, che non hanno dato un nome. Diciamo che è il punto di overwatch. Zero due sul punto di overwatch. Ho avuto zero due situazione, abbiamo anche una visuale parziale dell'obiettivo, completamente zero. Affermativo, qualcosa si vede, per il momento non si vedono tango, però c'è molta vegetazione. Ok, quindi da qua, vai a vedere. Vedo armi in mezzo al piazzale. E secondo me c'è anche una carica in mezzo al piazzale, una EOD. Vediamo diversi armamenti in mezzo al piazzale e credo di vedere anche un EOD in mezzo al piazzale. Sì, c'è un veicolo con un esplosivo di fianco. No, no, a parte il veicolo, di fianco agli armamenti. Confermo, confermo. Ce l'aviamo nello specialista, Cyrus? Addirittura, ma questi utilizzano le rettive. Ma poi è casa loro. Sveglissimo. Comunque non vedo tango. Eh, questa cosa che a me non mi piace. Dato che ci sono le EOD, non è che è una trappola. Facciamo, noi facciamo il giretto leggermente sotto costa di qua e li prendiamo da dietro. Ovviamente l'ultimo movimento si farà molto lentamente. Sì, perché già che ne abbiamo visto una, ne aspetto di più. 0-2, movimento in mappa. Cerchiamo di rimanere completamente coperti dalla crescita. Direzione 3-0-0, prima finestra e seconda finestra. Questa, Oro. L'ultima finestra, tutti dango. Casale. 3-0-0? 3-0-0. Dango dietro il casale, lato destra. La 3-0-0 vede da una finestra diversi tango, vedo. No, stanno arrivando, eh, da dietro il casale, lato destra. Da dietro il casale stanno arrivando verso di noi. C'è il silos bianco. 2. Ok, dai, tanto non è che... Sono io che non li vedo. No, ok, sono di là dal silos, davanti all'hangar. Sì, sì, si muovono. Oro, direzione 301-300 metri di distanza. Edificio, con finestre, ci servono almeno 4 tango all'interno. Ok, quindi è più a sinistra, mi parlo. Credo. Comunque, easy, il movimento c'era in mappa. Cerchiamo di star larghi, coperti e occhio perché già se c'è un ID nel piazzale mi aspetto di dire in giro. Ricevuto, movimento 285. Aspetta, aspetta, non c'è ancora luce, vedo. Ok, stambi. Sì, c'hanno la limmetrica. Ma c'è appena flancato? C'è San 3. Stiamo facendo un flank, eh? Eh, no, il gire. Ok, che gire? Sono sulla parte quella lì. Ah, no, che è vito. Ma sono almeno 3 cecchini, oro. Sono queste caserme qui. 1 e 2. Ah, io non c'è neanche 2. Sono almeno 3 o 4 cecchini, oro. Ci sono 3 cecchini sicuri. Ma anche 4 fai. 2 fan, sì. Che io vedo, eh. No, no, sono 3 cecchini, vedo. E l'altro che mi ho nascosto. Ma l'ottica, secondo me, è sempre da cecchino. Più o meno si lo vede. E la quarta finestra, aspetta. Un'apertura tra il casale e un altro. No, no, ma andiamo a vedere l'altra finestra. Se lo vedo da di là. Ok. Conferma che... Anche l'ultima finestra è una stanza con due persone all'interno. L'ultima finestra a sinistra. È affermativo, confermo. E dietro c'è un altro casale. Potrebbe essere appena anche quello, eh. Stand by, vero, Sam? Sì, sì, sempre stand by. Ok. È che secondo me c'è un macello lì dentro. Sì. Andare a morire. Sì, se andiamo sul fianco sinistro, sotto costa, non ci dovrebbero vedere, eh. Se ci allarghiamo parecchio. Attenzione. Eh, sì. 2,20. Quello c'è addirittura la giri, eh. Poi ci allarghiamo da sinistra, ero, in spiaggia. Questa è la linea 2, 2,80. Sì, guarda, allora. Io ho dato la destinazione finale, che poi sono le caserme là. Noi alleggeriamo i contatti da qui. Siete partiti? Ah, ok. E poi muoviamo praticamente a 3,35 con la 9. Ok. Ok, ho capito. E così poi comunque noi poi faremo il movimento per pulire tutto l'altro settore. Allora, noi siamo... Tecnica in movimento. Tecnica in movimento. Armata, direzione 3,40. 3,40. 3,40. Su strada, su strada. Tutti giù sdraiati? È lì su strada che sta arrivando, Aro. Pista. Tutti giù sdraiati. Se passano, sparate. Se sparano, luce verde, eh. Sono fermati. Sono fermati dietro la pianta. Eh, sì. Stiamo facendo elettromarcia. Sta girando, sta girando. Eh, sì, è quella mo... Tornano indietro, tranquilli. Questa è solo il pattugno. Ok, dai. 0,2. Fate... Muoviamo? Fate quel giro che vi abbiamo detto. Ok. Mi occupo con la 9. Easy. E venite qua davanti. Facciamo un po' di pulizia. Allora, aspetta, aspetta. Abbiamo luce verde, però... Stiamo più in spiaggia possibile. Noi siamo perire molti il settore... Quindi teniamo più un 270. Esatto. E dobbiamo attaccare proprio quei due compound dove c'è pieno di gente. Però prima ci avviciniamo e guardiamo, poi capiamo. Percorso, signor. Compound, quelli a nord. Sarò, 0,9. Prendiamo la comando. Ah, dai, hai ricevuto... Oh, io. Da leggera, per ora. Buonasera a tutti. Buonasera a Luigi. Chi è? Non so, venite a dare un'occhiata qua. Non mi sembra molto... È un compound. Cacchiazza. Avvertitemi quando siete... Vai, avanziamo, piano piano. Pensiamo sotto la costa. Ricevuto. Abbiamo in visora anche un accampamento oltre i due compound dove abbiamo visto gente. 0,9. Appena vi do il luce verde, disabilitate poi quella tecnica. Ricevuto da 9. Pronti il luce verde. Vai, 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 avanza. Eh... Avanza, avanza. Stanno attaccando la tecnica che c'era prima. ci tirano sei sicuro che il bunker e non dalle finestre si la finestra della caserna dietro la tecnica abbiamo una tecnica sulla destra muto quello è passato si sa il muro è preso avanti prima caserma l'abbiamo quasi pulita manca ancora un contatto ora ce l'occupiamo aspettate che ce n'è ancora uno stiamo tirando anche noi perché ci sparavano comunque siamo a un centinaio di metri ok 0-2 la prima caserma non vediamo più movimenti quindi potete continuare il movimento avvenziamo la prima caserma avvenziamo il piano ricevuto avviciniamo 0-9 da vai avanti vai per qui 9 avvenziamo il movimento ricevuto la striker sta perdendo mi tirano ma non so da dove no l'ho vista dentro al casotto in lamiera ha battuto occhio al caseggiato dietro che per ora sembra libero passo dietro le tente l'ho visto sono di qua di fianco da dove si tiravano eeeh vabbè perfetto direi non dirmi che sei già morto si eh capito in maniera male o da eroe? no è male no è comparso magicamente da una finestra come mi senti affronta da casa nel suolo però va bene devo 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 tirare fuori il figaro perché se no qua è impazzesco dai ti butto dalla 2 si ah che voglio ah spero intanto mi metto la radio ti dico solo che non sono finiti oh no no vabbè immaginavo è che ho guardato quelle finestre lì e mi è comparso così preghi ciao ciao c'è allora risalve oh schia perché non c'ho culo non lo so avanti vai avanti vai abbiamo un ferito abbiamo un ferito e siamo di fianco al primo cadeggiato dove c'erano tutti i tank allora aspetta che devo cambiare per avvicinarvi al prossimo e al prossimo settore ma Sam è qua vivo si si ma mi hanno ributtato dentro ah che di voi è ferito 9 ricevuto interrogativo viper ma chi è che ha lanciato sti cazzaroli di fumagini blu ok ho fatto antidolodifico purtroppo l'angolo sotto il deposito dell'acqua e io c'ho il mezzo davanti qua un medico dove sei? dove cazzo sto stai no non li non li vedo da qua e c'è 045 sotto distributore dell'acqua avanti vai dalla vostra posizione abbiamo un tiratore che ci tira da praticamente da dove credo dalla zona proprio nord della della città dove c'è il silos dell'acqua giusto stiamo tirando cazzo è sulla collina 310 penso uno che stava venendo da noi ancora tutti un ferito quella lì c'è un nemico siete su ancora sì no la sulla collina ce n'era uno e penso spero di averlo preso dov'è dove dici qua seconda finestra o c'entriamo o c'entriamo ma è brutta di là in francia si sparano dall'altro lato non ci dovremmo prendere quel clinale sono morto tira per sicurezza intanto tira occhio vieni qua vieni qua mi butta a terra mi butta a terra ok sono io mi sento da dove cazzo tira te l'ho visto sparata lì merda è davanti agli hangar tutto ricarico non dov'è non portare i feriti dentro questa casa preso 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 tutti up quante merda same up quante è ferito visi ci sei 5-7 si si preso ricazzo alla sinistra dell'hangar vai per da 9 avanti da 9 diciamo a limitare degli alberi in attesa di luce per la riruzione affermativo liberate tutto quello che ci ingaggia intanto la nostra posizione è libera giusto cosa hai di chimico cos'è che è quella nuvola gialla arancione penso che sia un fumogeno ok pochissimo fatto fuori un altro punto credo che stiano ingaggiando da quella struttura sulla destra di metallo stiano quella ma dai ci sono ghilli c'è un altro 0-9 negativo per salire 10-100 coppio è qua dove sei? siamo a terra siamo a terra siamo a terra siamo a terra 50 metri da direzione 10-15 50 metri ok Sam cerco di tirarti su per quello che posso fare no no però io ho Sam a terra cerco di stare basso eccomi mazza era splendida ok aspetta che l'hanno ribeccato datemi dei fumogeni ok lo trascino copertura serve un medico qua Elias a terra serve un medico serve un medico non ti vedo più ragazzo non ti vedo più però ho più a terra lo prendo su ok abbiamo un medico qua ragazzi è lì a terra è l'unico medico che abbiamo abbiamo più perché non c'è nessuno che è il vostro medico abbiamo Elias a terra Elias striker e Sam a terra randevù all'action chi è il vostro medico Elias a terra dove è Elias qua 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 ok curatemi sorvegnami Sam Viper qui Amaro ci sei passo ok a posto no bleeding ok tenetelo sempre controllato check pulse no heart rate merda i PR li faccio a tutte le squadre interrogativo qualcuno ha in viso l'ho in contatto con Viper passo 9 negativo fermativo ok ti metto un po' di sangue ragazzi sta sanguinando ancora ok è bendato ragazzi è bendato non c'è un domani cazzo ok ti controllo merda cioè gli stai bendando sulla gamba no bendagli la su ok fai un pneuma va bendata ok merda maia qui Amaro abbiamo bisogno di un medico abbiamo trovato vai per passo avendo il pulso a Sam maia qui Amaro cambia di programma il viper è deceduto passo e lo street o close ok jtac qui Amaro mi ricevi passo perfetto adesso ti intubo ti ricevo un sacco di tempo non faccio più il medico non fai fare te adesso mannaggia Dio ok vengo c'è ancora un po' ora andiamo a metterti vediamo un po' come sei messo ok non hai battito è uno morto non so ti è grazie ok sto in fibrillazione non mi vado ancora al cuore ok carichiamo allontanarsi ragazzi ok hai polso ragazzi fategli ruotateli la testa come si fa c'è l'azione dalla testa add beacon turning ok ok frequenza ce l'hai adesso pian pianino mi viene nissù ti faccio ancora un po' di sangue mezzo litro dovrebbe bastarti ok poi ti faccio della cheta terra check uno check dove state stiamo al rendezvous delta 0 2 all'action delta 0 2 con Sam e prodigi e li adesso dovresti più due casual tis venire su ok vai vai che c'è un ferito qua vieni Sam questo è morto vieni da Sam anche questo è morto prodigi no Sam no grande quantità di Sam questo si è morto è morto ok poi ti puoi togliere tutto ciò che ti ho messo ok grazie bene squadre attenzione stiamo per far detonare una head in l'endition oh oh che è di ma sai si a quella vicina alla macchina abbiamo perso striker ragazzi è deceduto chi è questo qui è morto è Thor dove si è sconnesso si è vuto pazzo è Thor non respira più Sam l'arma stai qui qui nube 25 chiedo conferma su landing zone Artea confermiamo landing zone Artea ok tre primi arrivo cazzo stai vicino alla tecnica vero sto vicino al questo edificio con le finestre dove stavamo prima sì sì con la tecnica arriviamo esatto esatto dai perché non torna su lei lì ha su il tuo drittino magico ecco no è morto è 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 Tu non ne vuoi sapere Chi mi ha colpito dietro i sacchi di sabbia Il medico ha fatto di tutto Ma non mi ha salvato Prima avevo come medico prodigi Poi è passato a Elias Quando mi ha ammazzato Elias Elias mi ha ucciso Per me Posso farti una domanda? Dica Cosa gli hai fatto di male a Elias? Perché? Eh non lo so Prima con prodigi stiamo andando Dopo è arrivato Elias è ucciso Eh non gli ho fatto niente Corriamo insieme anche in macchina Non gli ho fatto niente Ho sempre fatto vincere Fumogeno Blue Invisal Ah vabbè Ti butto sull'elicottero appena a Sagi Sì dai Fumo fumo Va una cosa Di capo Digli a Dornet Che mentre il medico cura DLP amaro Gentilmente quando vi do Un'unicazione Mi lo ricevo Grazie Posso Va bene Così Va bene Magari la curiosità la prima missione Sì No vabbè Ricevo la tua ragione Va bene Va bene Saper atterrare l'elicottero Tu hai ricevuto il TL sta rimodulando la frequenza Arriva 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 Vai un filo più avanti che se no mi butti c'è la torre Che comunicazioni Vai 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 un filo più avanti che se no mi butti c'è la torre Vai 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 Con pattinaggio Visto Avanti Allora Elias 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 Dagli una fulminata Maro delta 2 va vicino Sì Maglio Maro Lui perde per l'imbarco Una scossa Un taser Qualcone Novo ricevuto in barca Ciao Ciao Adan fai un certo quando sei a buono eh Sare che sono a buono Vabbè Prossima landing zone a Kaya Basso separo Riteremo portato un po' in avvicinamento Ok ricevuto per landing zone a Kaya Riteremo portato un po' in avvicinamento Tutti di app Riteremo portato un po' in avvicinamento Sì Sono tornato Sono tornato Sono davanti insieme al pilota Riteremo il secondo 5 op Sembra non toccare niente eh No no Non ti preoccupare Però la diretta fa figo Eh lo so Riker tu Ma ha messo qua lo Zeus Ho metto molto Vedentela con lui Va bene va bene Oh no Luce verde per decollo Ricevuto decollo Ma trai che l'hai accasciato No 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 Ok 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 Non ti vedevo ecco Solo per quello Quindi andiamo a Ok augusto Maglia qui amaro Adesso che Tenderemo Muoveremo con calma Verso il nord e l'est L'OBG augusta Metto due marker Per indicare Le posizioni per la delta 2 La delta 9 Di ordevo Cerchiamo di capire un attimo Qual è la situazione E poi avanziamo Passo Ricevuto delta 2 Marò Ricevuto delta 2 Ma ci sto leggendo La situazione Evidentemente Crema Cegale Che è una zona Che violocciosa Una partita Non so Ma la E' una depressione Non so Oh Massima ragazzi Si si calano le cose Ma io qui Amaro non sappiamo esattamente cosa aspettarci quindi moriamo con calma Impossibile atterraggio qua, zona boschiva, utilizzate le corde Dicevuto allora appena sei all'altezza giusto da Cicci Verde per incenerarci con le corde Cosa dobbiamo fare? Raffle self? Raffle self Guarda a sinistra sempre se ci sono altri No, tutto libero Dicevuto Avanti Delta 2 E' tutto libero c'hai Scusa Amaro, problemi tecnici, avanti con la comunicazione Appena saremo pronti... Quanto devi arrivare? Siete voi la dicenda contro Se becco delle piante sul vetro non lo riesco a vedere da qui Dicevuto Secondo me possiamo scendere già qua Luce verde Grazie Luce verde scendiamo Uno sta scendendo Senti due Senti due Senti due Senti due era un 4 in discesa 0,2 tutta terra 0,9 tutta terra 0,8 tutta terra 0,8 tutta terra 0,8 approach Easy quando poi muoviamo il movimento è quello nero Adesso guardi in mappa No stasera ha il problema No problematica in generale Poi sono 3 anni che non tocco arma di 4 anni Quindi un attimo 10 Talve Non so Mi cura Prodigy e sto in piedi Mi cura Elias e mi fa andare giù Ce l'ha con me Elias Io ho detto allo Zeno Dagli un escalato Eh aspetta che c'è il capo Plutone Il capo Plutone si è ripreso Elias E allora aspettiamo il movimento del capo Plutone L'ha fatto alla fine dei ricci Che fine fanno? Guarda un riccio Questo qua è un altro elicotro Maia qui amaro interrogativo sul numerico degli operatori della Delta Passo Quanti siamo noi? Delta 2 6 operatori Delta 9 8 Che ne abbiamo solo 4 in metallico Allora alla squadra comando si aggrega la Delta 2 Quindi iniziamo in movimento Rimaniamo in collegamento radio E cercate di tenere bassa la testa Passo Quante possiamo Vediamo con te Qua vi dicevo Marol che ha lecchia Eh Sam Ti lo scusate Di Dov'è? M24 Dov'è? M24 M24 Sione 1-3-1 1-3-1 Elicottero credo sia nemico Marol 9 Se ci fa male Se aprono il fuoco risponde Interrogativo abbiamo qualcuno con armi antine? Passo Affermativo Delta 9 con Stinger Ricevuto quindi se aprono il fuoco Delta 9 hai luce verde Passo Ricevuto da 9 Chiudo Maia qui amaro iniziamo in movimento Passo Vai Sì Abbiamo luce verde e percorso nero Ricevuto percorso nero in movimento Direzione 20 20 più o meno 20 Se lo sto già muovendo eh Cos'è la doppia Chatt-chatt Vai vai Quanto è Sam? Voi avete soltanto Roba da Per mezzi Ma ci arriva una miscilata Confermo Amaro Però c'era qualcuno con lo stile Sparando Sparando Luce verde per l'ingaggio Ragazzi sparandovi a quel corso Sparando 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 Sto 9 Qui amaro Si ha l'elicottero attivo E luce verde per l'ingaggio Nel frattempo Quando tiriamo in movimento Non rimaniamo fermi Ma l'ho qui non ho ricevuto Appena il tiro Roba Sto laggando Eh vabbè Un po' anch'io Cioè non è che sto laggando C'ho proprio Io ho detto Io gioco con l'off Del telefono No 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 Ma io c'ho proprio Gli fps bassi Non è neanche lag Io mi faccio F5 in defici 30 E beato te Chi è che gioca? Aspettate Ho sentito problemi di fps Taci Paul Te taci Taci Perché Ditemi tutto Io sono il mind Non ho detto degli fps No E beh easy Te non lo sai Ma Paul Quando l'ho conosciuto io Giocava con 2 3 Quando proprio Era in serata 5 fps Ma quando proprio Era olo colato Eh Proprio andava 0-2 sul punto Overwatch Esatto Iga 0-2 qui a mano Che c'è avuto Il tuo cattivo C'è Visual Lasso Affermativo Ma però C'è molta vegetazione Anche qua È un po' complicato E credo che ci tirino già Tango 6-7 Tango Direzione 0 6-7 4 Tango Vale Ma l'elicottero L'hanno abbattuto Sto atterrando 9-9 qui a mano Non sento il botto 9-9 ricevuto 9-9 ricevuto 9-9 ricevuto Ma il lanciatore Si c'è il lanciatore A tutte le squadre Un veicolo di terra In area operativa Precita la prossima attenzione Amaro dalla 2 In città Vedo anche dei civili Maya Qui amaro Attendete A aprire fuoco Sul villaggio Cerco almeno Di farci un'idea Prima passo Ragazzi Mi sentite? Buona si Andate avanti No no Stavo fermo Sono andato avanti A vedere qualcosa Vedo armi Anche lì Sempre dal piazzale Avendo gente armata 70-073 Personale civile armato Io ho visto anche civili non armati Sì ma gli serve un cazzo di barrel E c'è qualcuno che va a rette Perché ho appena sentito un colpo No è il cittadino di fronte Non può essere uno dei nostri Non ho visto Anche un Yeti Tecnica l'armata 087 Ragazzi si avvicinano Tanti civili Avete visto quanti sono nel bosco? Tutti armati Tutti armati Maia qui Amaro Porre attenzione Movimento di truppe nel bosco Davanti a noi Prima del villaggio Ci sono anche molti civili Passo Direzione 044 C'è una casetta Vado là Non sta avvicinando Comunque attenzione Dove è stata abbattuta Il ritocchio Se viene uno con me Mi fa compagnia Dai vengo anch'io No ma l'hanno spacciato No ma da lì non lo tiri su C'è me a nessuno alle spalle Si riesce ad andare al piano di su Si riuscirà ad andare al piano di sopra Da qua da qua da qua 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 c'è la finestra Merda ci tirano Quante ci siamo fatti vedere Mi sa Ma è qua giù dal laghetto Mi sa che tirano Occhio c'è Tango che stanno arrivando dal laghetto Sotto Sotto la collina Dove siamo noi Questo è un'altra Che possono essere presenti In area operativa Delle milizie civili Neutrali Quindi attenzione A dove spariamo Se aprono il fuoco Abbiamo luce verde Signori abbiamo delle milizie civili Neutrali Però se aprono il fuoco Rispondiamo Che cazzo è sto Dove è sto pezzo Blu blu Alla casa Quella distrutta Pante tu sei ancora su? Siamo occupato la casa Prima di te Questa è la terra Probabile Soltanove qui Amaro Introgativo sul vostro stato La parte è visual Terò qua di fianco a me Amaro V9 Un ferito Occhio Occhio perché tirano C'è qualcuno ferito? Sono coperto E riesco a curarlo Eh attenzione Che qua tirano Eh di fianco a Polcio Pantera Io sono dentro la casa E sono coperto Io devo curare Il capo Quello dove è? Figa non hai polso Non hai polso Non hai polso Faccio il CP Su Pantera Qua qua Faglio la rotazione Della testa Maglia JTAC 1 Per il momento Non operativo JTAC 2 Prende posto Bendatemi Pantera E bendatemi Bendato Sto Rotando la testa Che non respira Ok Pantera ripresa A respirare Faccio il CP Ci sono Ci sono Come ci sei Come ci sei Come ci sei Ehm Sono morto E dimmelo più tardi Dimmelo più tardi Adesso posso parlare Dov'è Dov'è la testa Una domanda Io non mi sto Perciò 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 Amaro Sei ancora Pante 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 Eh ma M'ha preso Sono Dove sei morto Te prima Da una bendata Ma neanche Neanche Solo forte dolore M'ha preso Morfina Dove sei Dove sei basso Ma che altro C'era di fianco Stiamo sopra La prima rocca Che abbiamo conquistato C'è il fumogeno Rosso e bianco Qui no Vi ho ricevuto Vi ho inserito Un puntino Su mappa Vi raggiungiamo Maia qui Amaro Passo Come si è messi? Male 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 Is e Elias a terra La due Ha due operatori a terra Tra cui il medico Qui nove Un operatore a terra E ho mandato Una squadra Su JTAC 2 Abbiamo anche Anche Paul a terra Ma che cazzo Guarda Paul Ma Paul Ma Paul Sta tutto Abbandonato Sta ancora Forse veloce Ma forse Sta ancora C'è un premo Torace Allora Bisogna Decomprimere Paul Che c'è un premo Torace E anche Elias Elias Per il canove Dalla Due Allora Paul a polso Bassi Molto forte Però ci siamo Ancora Non c'è un cacchio di medico Qua bisogna Decomprimere Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Delta nove Qui Amaro Venire su Posizione Delta due Stiamo aggiornando L'actual Quas Quante Aggiornare l'actual Ok Ci sono Ci sono medici a terra Abbiamo Tre Amaro Qui nove Avete una squadra Nostra avanzata Sul vostro Acqua Nove Qui Amaro Vi c'è Un Zambi Sì Lo sto Sassituendo Uuu Pipe Allora Io sto Ho già un cerchino Stai su chi Sei su Elias Ok Sei medico Sì Ok Riesci 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 Sull'altro Che io faccio Elias Uomo a terra Qui Ah io Salvemi tu Allora Sei rimasto Ah Qui di uno Vediamo se Sì Sono qua sotto Non riesco a capire Amaro Actual Aggiornato Amaro da nove Passo Nove qui Amaro Passo Interrogativo Vi raggiungo con il resto della squadra Proviamo ad avanzare Nove qui Amaro Affermativo Siamo sotto il tiro di un cecchino Abbiamo bisogno di supporto Passo Il giro Ricevuto Arriviamo in qualche prima Questi te li hai già visti Sosti morti Lies mi sa che dopo non avrai più sangue Aspetta Ho tolto tutto Tempo ma più che altro perché Se Il capo lo si esce Io ho delle sacche Nelle zone Adesso per il momento Non mi sarò Ho due giro negativi Anzi tre giro negativi Ok Magari se fai una cosa Apri l'inventario di Rias E buttaglielo dentro Le sacche di sangue Non altre cose No Lo dico perché Conoscendo i miei polli E' qua E' qua Si si è sotto Tempo ma il problema è che Qui non ti posso trascinare Se mi alzo Mi schiattano Quindi Vi devo bendare E' un po' E gli ho messo tutto il Il sangue Su Su Ok posso così Lascio pure così Purtroppo lui è già andato Ah sì tu sei Eh ma il pollo sta abbastanza bene Ah ma Io ho messo Io conoscendo la casa Vediamo Siamo Ciao No Facciamo Ok Ok Adesso Andiamo 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 No No l'elicottero l'elicottero è nostro o no? ho Sam gravemente ferito e Amaro ci siamo anche noi lo metto giù attenzione che sparano da qua sotto farlo trasparlo carico via voi via tutti attenzione non mi fai scaricare sempre via dove è Caio? non mi lo fai scaricare ok Caio lo tiro giù con l'elicottero vai 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 abbatti non mi mettete dietro via da dietro tutti via da dietro abbiamo un'elicottero a saprare le nostre teste buono va com'è bello quando si spiega il motore tu persi uno va giù Giren ci sei? si si chi è che la... dove sei? ecco ti qua faccio un po' cosa vuoi come un antidolore se c'è qualcuno lo prendo Elias fatti un antidolore Marcos sei te che hai sparato l'elicottero? affermativo farlo si ho Sam qua di fianco te lo metto basta che me lo bendate questo è successo questo diretto non lo capisco hai già bendato però ho perso un botto di sangue devi farlo subito eh fermo 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 immobile immobile un caffè se io arrivo mi prendo l'amorisi poi arrivo allora Sam è parzialmente ostruito però ho perso una quantità fatale che... dove hai Sam? qui Pantera ha deceduto non respiro Pantera ha deceduto nooo ho detto dove sei? e Mattiu qui Pantera è appa Mattiu sei medico? ma Pantera ce l'ho io è appa ma vedi ho bisogno... c'è un altro medico qui che può sotturare io ho fatto il desil si adesso ti sotturo sotturo io sto facendo sangue si sotturando è capoplatigento si fai tu da capoplatone eh? si ora maker dov'è? è morto ah è un po' è un po' è un po' se vuoi sei tu Yankee to la maglia situazione ha bisogno di essere aspirato io stop fatti app fatti app fatti app fatti app una grande fatti Yankee qui 9 sono tutti app e prestiamo 1 e aga 2 ehm ricevuto interrogativo sul numerico feriti ok ora vado a seguire 6 polli eh controllo 3 2 1 pinetino e anche qui 9 numerico 2 incoscienti e un cosciente sotto qua 3 2 ricevuto comunque l'ho fatto il cecchino io eh la canzina per me sia posta bravo Matteo si bello ha fatto il dolore dai dai che ecco eh bentornato prima mi volate dopo mi volate vivo solo sei Matteo eh grazie dopo ho sentito che stava e finito anche nell'elicottero su di noi si hai fatto tu eh sì che vede eh sì che vede c'è qualcuno operativo grazie a tutti mezzo in avvicinamento sento un veicolo eh ma tutti qua stanno vado non c'ha battito ah guarda non c'ha per niente la saturazione vado un po' con la bombola a sinistra della casa la roccia e lì ho il battito che mi sta aumentando sei Bianchi e Tolamaria interrogativo siete tutti partiti passo noi abbiamo solo Sam down eh sei Bianchi dalla 2 Bianchi dalla 2 no è morta niente eh 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 io non so che dire di stasera i medici non ce la fanno a tirarmi su eh ho notato che c'era un problema eh sto punto a sto punto a sto punto immagino di sì il problema è che se esco dopo non sono più Zeus ma se faccio se faccio se faccio se faccio così se faccio così mi tolgo così sei scomparso no no non è che sto tolto ma sono proprio tolto dal server però no no ma comunque resto bloccato così e ogni volta non lo so porca madonna eh che siamo in diretta ahhh scusa è un orca l'orca bianchi dalla 2 3 tango in visual direzione 070 ricevuto muovere direzione 115 se faccio modello non va se faccio di la non va e io sono bloccato così non riesco più a fare niente perchè non riesco a fare più niente se la tastiera non è perchè l'ho provato a spegnere e riaccendere ah sei bloccato tu come Zeus ma proprio come non posso fare niente posso fare solo esci ehhh 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 lo Zeus lo vedo il problema è che non riesco il giorno avevamo contatti in visualizzazione 070 ha ricevuto i Yankee procediamo ad abbattimento simpatico aspetta allora almeno parzialmente forse riesco a risolverlo se faccio ma se faccio riapparezzermi si aspetta addio Sam ehi la voce va si ma io non vado ti vedo adesso ti vedo prima non ti vedevo neanche si perchè ho fatto riparizione no no ma non ti vedevo neanche qua adesso mi sei compasso dopo un po vista 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 però almeno ho ripreso i comandi dell'Otto tecnica guys perfetto è brutto a dire ti parti dai lanciarmi perfetto ietami reietami eravamo Augusta su dove c'è la casa di roccata delta 2 sto cercando no perchè sono spostati ah dimmi il nome di un animale il cane no il nome ah no dai devo trovare 0.9 0.95 la 0.2 copra avanzato e la 0.9 classicissimo 2 dove cavolo è pantera o pacchito 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 draco pacchito poppa 0.9 muovete nella direzione della direzione era quello di altrimenti no di chi trova un amico trova un tesoro pappagallino l'ho ricevuto lo attrono scemmo è troppo lungo però adesso lo chiamo dai ho trovato carlito il nome di carlito va pacchito e poppa come jtac esatto pacchito e poppa Sam allora dai perchè di non morirmi più eh grazie ti ho nascosto salut ciao marcos abbiamo un un aerosir a risalve da risalve dove siete alla cittadina felice di orvi momento ma sai io sono di fianco all'actual della 9 Vabbè, forse vi ho visti. Merda. Eccomi qua. È passato molto vicino quel proiettivo. Quale movimento dobbiamo fare? Seguire la Yankee, cioè il capo volatone. Quindi su strada. Attenzione, contatti est. Cento e mezzo. Attenzione, la tecnica sta passando a nord. Sto nascolando i piedi. Yankee, qui nove. Abbiamo un mare con due feriti. Su, acto. Ricevuto, interrogativo, se avete bisogno di supporto medico. Pass. Negativo per supporto medico. Grazie. Ricevuto. Quelli che non ci spavano dalle spalle. Si sta arrivando da dietro un carro. Carico. Carico. Ecco qua, BMP nemico, di tra La tecnica Io avrei anche un coppetto da tirar agli Sì, è vicino all'elicottero abbattuto, si muove verso Niente, tornare in situazione Celta 2, 4 unità Sul fianco sinistro dalla chiesa 0-9, ancora il stand-by-con, non ricordo un ferito Dove mi tiro, mi tiro, vedo ieri Da Ok, c'è la madame, guarda là C'è anche lì nel prato Ok, ho visto il movimento in direzione sud adesso 0-9 qui, Yankee, passo Garmino a 9 0-9 interrogativo su tempo stimato per cure feriti Impossibile, stasera Yankee, Yankee dalla 2, unitario, direzione 121, 3 a terra, so zoppati su Nettimesa Raga, ma qua che cazzo è successo? Riuscite a metter un marker, rientro, così va? Alle spalle della chiesa, dove stanno i container? Vabbè, vabbè, ma si può Ci rinuncio Meno male che ho detto Ci rinuncio Basta È la quarta volta che mi rimetto un dentro, basta No, ma la cosa di attendere è che io non ho finito neanche a dirlo No, ho capito Sì, ma non ci siamo stati vicini, sono stata a comando No, eravamo almeno a 50 metri Appunto, l'avevamo visto, siamo passati lontani Era a comando, allora Vabbè, io stacco questo in posto No, Eden, basta No, è anche perché è la quarta volta che mi rinfitro, ma ho finito Cioè, se manca troppo Va bene Ce la vediamo poi domani Ci da domani, dai, ciao Ciao, ciao, ciao Che spettacolo Che è morto Che è che è morto Ah, c'è Elias Ciao, Isi Ciao, raga Vabbè, siamo morti tutti Madonna, guarda qua Ma hanno fatto saltare il paese, allora Tutti sull'ID? No, no, voi l'ID, noi il BMP Ah, io l'ho preso tutti e due Perché col primo non ero morto Ah, tu che ti salvo col primo Sì, 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 ho fatto il ripasso Manca Jiren, anche Jiren è morto Forse a terra Quanti ero? C'è qualcuno che mi ha detto Seguimi, andiamo lì, ok Eh, mi devo ricordare il nome adesso Eh, niente Quindi, scusatemi La cosa che è successa è che Io, lui e un altro Siamo saltati sull'ID No, in quattro siete scoppiati Sì, però Dopo siete scoppiati Dopo vi hanno scoppiato Però non c'era Però c'eravano lontani Cioè, o era a comando O non ha fatto No, no, eravano in D E scoppiavano in D All'improvviso Eh, ma non ci siamo passati sopra Ce l'avevano di fianco No, 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 no Era di fianco Era attivata, era Vabbè, io abbandono Anche perché Perché eravano da dire, ragazzi Sì, sì Io ho fatto Ma già l'inserito troppe volte, serve Ma poi è crashato pure, serve Eh, ma c'aveva dei problemi da Zeus, ha detto Dai Buonanotte, ragazzi Buonanotte, signori Sono tornato, se volete rientrare No, io mollo T'ho già sfruttato troppo Lascio Entra gli altri, avesse Sono già vestiti Ce n'è lì Buonanotte, signori Andiamo Andiamo a Andiamo a Vai, veniamo con te Di Pantera Allora Beh, dai Ho già fatto abbastanza Notte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti